Potete comunicare al signor Massimiliano Allegri che abbiamo perso due punti sul Bologna? No, perché oggi il ragionamento da fare è questo. Non si è vinto neanche in casa contro il Genoa. È una cosa scandalosa, una cosa vergognosa. Un gioco che fa schifo perché oggi veramente abbiamo toccato il fondo. Neanche un passaggio riescono a farsi tra di loro. Per l'amor del cielo abbiamo fatto anche la partita, anche perché avevamo di fronte una squadra inesistente. Un tiro in porta, il palo di Ken, alla fine. Neanche il culo di Allegri al 95esimo ha funzionato questa volta. Poi non mi voglio neanche più arrabbiare. Io ormai ci rido sopra. Ci rido sopra perché chi sostiene questa situazione o veramente ha le fette di salame sugli occhi oppure ha interessi personali. Entra Iling, è la stessa cosa. Entra Ildiz, è la stessa cosa. Non prendetevela con Chiese Vlaovic perché non si riescono ad esprimere. Ma perché durante la settimana questi non fanno niente. Non fanno niente durante la settimana. Ed è la prova, è la dimostrazione. Perché non possiamo cambiare anche noi l'allenatore come ha fatto la Roma? Perché non possiamo farlo anche noi? Perché non possiamo... Anche il Napoli l'ha fatto. Perché non possiamo farlo anche noi? Mettete Montero fino alla fine della stagione. E poi si riparte con un altro. Tanto peggio di così. Che cosa si può fare peggio di così? E sono tutti diventati scarsi? Sono tutti scarsi? Anche Ildiz, che è un talento, è scarso? Iling è scarso? Sono tutti scarsi? Incredibile. Veramente incredibile. Non c'è giustificazione. Uno schifo!